Oroscopo del giorno, lunedì 20 marzo 2017. Toro. Lavoro, insistete su un progetto anche se ancora non avete visto profitti. Credete con maggiore fermezza nei vostri sogni e questi si realizzeranno. Gemelli. Amore, evitate di essere arroganti con chi vi sta accanto. Il vostro atteggiamento può diventare fastidioso e potrebbe stancare il partner. Dovreste essere più comprensivi. I single potrebbero avere la gradita sorpresa di trovare l'amore in un'amicizia che dura da tempo. Lavoro. Lavoro, state lontani dai pettegolezzi e cercate invece di svolgere al meglio il vostro lavoro. Qualche collega invadente vi provocherà. Cancro. Amore, troppi pensieri del passato attraversano la vostra mente. Dimenticate le cose vecchie e badate invece al presente che vi offre una vita piena di amore. Sarà invece una giornata altalenante per i single che nonostante la malinconia avranno il sorriso sulle labbra. Lavoro, non siate polemici con colleghi e superiori. Evitare di criticare tutto e tutti e cercate di essere più discreti. Ne va della vostra immagine. Leone. Amore, curate dei più il rapporto di coppia e ricordate i doveri verso il partner. A volte sembra che non vi rendiate conto delle sue esigenze e fate finta di non capire. I single sentiranno un'attrazione particolare per una persona e potranno vivere nuove esperienze. Lavoro, non fatevi idee sbagliate sul conto di colleghi che ancora non conoscete bene. Prima frequentateli e poi traete le vostre conclusioni. Virgine. Amore, fate una revisione della vostra vita per capire cosa c'è che non va. Se ritenete che il partner sia poco interessato, prendete l'iniziativa e potreste risvegliare la passione sopita. I single dovranno prendere in seria considerazione la decisione di spazzare via le amicizie false. Lavoro, avrete la possibilità di cambiare lavoro, attenzione a vedere sfumare le buone occasioni. Valutate subito se vi conviene. Bilancia. Amore, lasciate da parte i pettegolezzi e pensate con la vostra testa. Non fate intromettere nelle questioni private altre persone, lasciate parlare i vostri sentimenti. I single dovranno avere ancora molta pazienza e attendere che si presenti la giusta occasione per l'amore. Lavoro, le polemiche fanno sempre discutere. Soprasedete su alcuni aspetti lavorativi e datevi da fare per coltivare le amicizie vere. Scorpione. Amore, sarete particolarmente nervosi e potreste avere scontri anche con il partner. Prendete tutto con leggerezza e accettate i consigli di chi vi vuole bene. I single dovranno faticare per conquistare una persona a cui tengono molto, ma ci riusciranno. Lavoro, con Marte nel vostro segno le comunicazioni oggi saranno tese e complicate. Non polemizzate per cose futili, rilassatevi. Sagittario. Amore, un tradimento potrebbe venire allo scoperto e mettervi in imbarazzo. Se siete in coppia dovrete tenervi stretto il partner e curare di più il vostro rapporto. Oggi i single potranno ricevere notizie positive che rallegreranno la giornata. Serata movimentata. Lavoro, siete stressati e questo vi impedisce di impegnarvi assiduamente sui vostri progetti. Concedetevi una pausa e starete meglio. Capricorno. Amore, oggi potrete incontrare persone che non vedete da tempo e potreste avere un ritorno di fiamma. Cercate di non tenere il piede in due scarpe se avete già un legame importante. La luna sarà a favore dei single che potranno fare incontri strani ed eccitanti. Lavoro, le occasioni oggi potrebbe essere propizie per un nuovo lavoro. Fatevi trovare pronti e disponibili a prendere tutto quello che vi viene offerto. Acquario. Amore, sarà una giornata tranquilla e ritroverete la calma e la fiducia in voi stessi. La sintonia con la persona amata sarà piena e soddisfacente e trascorrerete momenti deliziosi. Oggi Saturno è a favore dei single che finalmente potranno conquistare qualcuno. Lavoro. Se qualcosa nel lavoro è andato storto fate una sana autocritica verso voi stessi. Forse avete sbagliato in qualcosa, recuperate. Pesci. Amore, un gesto da affetto e un complimento dalla persona amata faranno breccia nel vostro cuore. Come resistere? Passerete unottima giornata. I single potranno cercare di distrarsi e divertirsi in attesa che Cupido scocchi una delle sue frecce. Lavoro, bando alle preoccupazioni, state sereni e prendete le occasioni migliori che vi si presentano. In qualche modo dovete iniziare, fatelo il prima possibile. Pesci. Ascriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.